Le autostrade del mare sono oggi sicuramente una realtà. Ospite oggi di Interview, Francesco Benevolo, direttore operativo di RAM, la società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nata vent'anni fa con il nome di Rete Autostrade Mediterranea. Con lui analizziamo le azioni in atto a favore dell'intermodalità, anche alla luce della crescita del 56% del traffico rorron negli ultimi dieci anni, che ha reso l'Italia leader del settore in Europa. Attualmente stiamo supportando il Ministero nell'erogazione del Simodal Shift, che è un incentivo proprio all'intermodalità degli operatori della logistica e del trasporto strada mare e contiamo di poter ulteriormente rafforzare dall'incentivo e anche in linea con i risultati di queste ricerche, tra cui quella della Bocconi, potenziare e anche innovare le modalità di incentivare l'intermodalità strada mare nella convinzione che l'intermodalità e la logistica sono la strada corretta per la sostenibilità e anche per il vantaggio economico del Paese. RAM sta puntando tantissimo anche sulla digitalizzazione del comparto. Sì, i fondi del PNRR nella misura del cosiddetto M3C2 erogano 250 milioni di euro per la digitalizzazione del sistema logistico nazionale. Il più grande investimento non infrastrutturale del PNRR consentirà e già sta consentendo al Ministero con il supporto di RAM di promuovere la digitalizzazione dei porti, quindi la realizzazione dei cosiddetti port community system, degli interporti, è appena uscito il bando di 10 milioni di euro per gli interporti, e tra poco di mettere in campo ulteriori 175 milioni di incentivi alle imprese di trasporto e logistica per un upgrade digitale e anche in linea con la nuova approvazione, la recente approvazione della cosiddetta ICMR, la lettera di vettura elettronica, quindi digitalizzare per rendere più sostenibile e per favorire la logistica. Questa è l'analisi sul trasporto multimodale di Francesco Benevolo, direttore operativo di RAM, appuntamento a domani per una nuova interview al personaggio del giorno.